Occuparsi della promozione in teatro significa per la maggior parte delle volte occuparsi di qualche cosa di molto tradizionale, manifesti, locandine. A un certo punto però ci siamo resi conto che non bastava più perché anche il teatro aveva bisogno di muoversi verso il futuro e quindi io per prima, visto che me ne occupavo, ho deciso di guardare un po' oltre anche per quanto riguardasse me e formarmi in merito con degli strumenti un po' più specifici e ho incontrato Ninja Academy ed è stata la mia fortuna se vogliamo per certi versi perché mi ha fatto capire moltissimo di quello che stava succedendo sul web, mi ha avvicinato a questo mondo e tutt'oggi sfrutto moltissimo quello che ho imparato attraverso i corsi di Ninja Academy. Nel frattempo mi sono resa conto che forse anch'io avevo qualcosa da dare in cambio a Ninja Academy ed era la mia competenza. Io sono un'insegnante di voce tra le varie cose e quindi ho pensato perché non mettere in campo la mia competenza per poter dare qualcosa come un valore aggiunto oltre all'essere una studentessa facente parte del gruppo e così Ninja Academy mi ha aperto le porte, ho conosciuto delle persone meravigliose e sono diventata una docente. È proprio vero che una carriera di successo inizia da un primo passo.